Io comincio esprimendo la mia solidarietà pubblica per gli attivisti kurdi che in questo momento si trovano nei paesi che per effetto dell'accordo tra Erdogan e altri vedrà queste persone tornare in Turchia ed essere incarcerati senza processo e forse come Ocalan non ne sentiremo più parlare. Andando invece in merito al mio intervento io idealmente riprendo in qualche passaggio l'intervento di Imma Barbarossa forse la comune partecipazione al movimento femminista e anche di Gianni Fabris. Lo faccio però articolando un lavoro che ho fatto insieme a un collega che non c'è più in questo momento ma che era con me fino a ieri e che con me ha in qualche maniera partecipato alla discussione che si chiama Fabrizio Greco attualmente a Roma. Sta seguendo probabilmente una delle vertenze più dure di questo paese quella che tiene insieme la questione dei navigator che insieme all'Italia rappresenta forse una delle vertenze numericamente più importanti aperte e in qualche maniera anche la questione del reddito di cittadinanza. Insieme a Fabrizio più o meno due anni fa abbiamo cominciato a partire dalle nostre condizioni professionali ed economiche quindi condizioni di precariato spinto ci verrebbe da dire a raccogliere materiali su quello che è lo stato del lavoro lo stato di salute del lavoro formale in Italia non mi nascondo che l'avevamo fatto partendo come dire da una sorta di romanticismo rispetto a questa questione cioè noi pensavamo di rappresentare un certo tipo di fabbrica implicitamente fordista implicitamente maschile e in realtà quello che poi è tornato indietro in termini di prospettivi non l'abbiamo fatto con un lavoro di campo l'abbiamo fatto interrogando quelli che lavorano nell'accademia e che sul lavoro formale scrivono. Ce n'è tornato indietro un quadro abbastanza inquietante che però si può assumere diciamo come elemento vertenziale in questo. Tanta 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 produzione in piattaforma ovvero tanto slittamento dal luogo socializzante della fabbrica all'individualismo spinto delle economie di piattaforme che siano eh globo o quant'altro insomma 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 in questo momento ho un vuoto eh tanta tanta eh economia del formale che diventa informale sistematicamente si perdono i diritti sistematicamente questo è l'altro elemento non si trova a sfondo per una vertenzialità diffusa dico questo collegando in particolare a due casi della fabbrica tradizionale uno è un lavoro di ricerca gestito da Bubbico che racconta come il liberismo o il tardoliberismo entra nella fabbrica come in realtà si impossessa del potere intellettuale di queste potere di queste persone come mette a valore o a estrazione di valore direbbe qualcun altro quella che è la creatività e come in realtà costruisce all'interno di quelle stesse fabbriche il conflitto tra questo personaggio nuovo che si chiama team leader e il resto eh di quello che rappresenta la sciurma e l'altra questione ovvero di un'avvertenza agita a seguito eh della eh di quella che era la costituzione della new core e che è andata avanti per un bel po' di tempo che riguarda gli operai della FIOM che oggi si trovano all'interno di Stellantis ovvero ehm il fatto che non vi fosse più possibilità di rappresentanza sindacale che in qualche maniera l'unica modalità di rappresentarsi era la tutela di natura giuridica. Io da questo punto di vista voglio eh dire delle cose precise. Eh io sono convinta che ehm i semi sociali di una lotta diffusa a partire da quello che eh Fabris chiama eh comunità di base in senso vertenze della base c'è e perché ne sono convinta? Perché partendo appunto di questa vertenza industriale che trova come unico sfogo la risoluzione giuridica per caso ma veramente per caso abbiamo cominciato senza che in questo momento ci siano risultati pubblici a studiare invece le altre vertenze sul mondo del lavoro. Che cosa viene fuori da queste vertenze? Intanto che c'è un'estrema solitudine e che questa solitudine si autorappresenta individualmente a partire da quella che viene chiamata identità di sesso, di genere, di forma, di cultura, di lingua, attraverso l'istituto giudiziario. Cioè le persone non avendo più una rappresentanza larga si autotutelano da sole attraverso l'istituto della procedura del lavoro civile. Ovviamente con tutti gli effetti che potete immaginare. Secondo che questo si collega in qualche maniera all'estrazione di valore e qui voglio fare un inciso. Anch'io come Imma Barbarossa non amo molto la definizione di sinistra populista e credo e questo voglio essere molto preciso che nel caso di Movimento 5 Stelle non c'entra assolutamente niente. Io la penso come il compianto Alessandro Dallago. Il Movimento 5 Stelle deve la sua fortuna a un'estrazione di valore particolare che secondo me si ripresenta appunto nelle piattaforme ma si presenta un po' ovunque anche nelle forme di entertainment che siano commerciali, che siano algoritmi e quant'altro che trova nella modalità di erogazione di quel progetto la sua fortuna. quel progetto non ci appartiene, quel progetto non ci appartiene perché è un progetto orientato all'estrazione di valore, non ha nulla a che vedere con quello che descrive la cloud, su cui io personalmente anche lì non sono assolutamente d'accordo. Io penso invece che la via come altri sia la costruzione di una sinistra diffusa, dal basso, popolare, intergenerazionale, intersessuale, interdifferenziale. Solo riuscendo a mettere insieme i pezzi che noi non vediamo e che appunto poi trovano nell'istituto giudiziario una qualche forma di ricostruzione dell'avvertenza, noi facciamo quello che è il nostro valore e soprattutto impediamo quello che è l'altro punto essenziale di questa dialettica, l'estrazione di valore. Cioè mentre noi siamo attenti al percorso della rappresentazione qualcun altro da questo percorso di valore, estrae valore, il Movimento 5 Stand ha estratto valore dai corpi e soprattutto da una tradizione politica. E mi fermo qua. Grazie Anna.